Umano, generoso, sempre allegro, un uomo e un medico di grande valore, morale e professionale, che non perdeva occasione per aiutare gli altri. Chi lo ha conosciuto lo ricorda così. L'intera città di Fano piange la scomparsa del dottore Carlo Amodio, noto radiologo di 71 anni, professionista stimato non solo a Fano, ma in tutta la provincia e anche fuori regione. Dal 2009 al 2012 Amodio è stato direttore di unità operativa complessa di radiologia presso l'ospedale Santa Croce dell'azienda ospedali riunite in Marche Nord. Attualmente lavorava come medico, radiologo, libero, professionista, consulente presso diverse cliniche. Non ce l'ha fatta resistere alla malattia del virus e il medico è stato stroncato da una polmonite interstiziale nel pomeriggio di ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove era ricoverato dall'11 marzo scorso. Alla notizia della scomparsa i social si sono riempiti di commenti di tantissimi pazienti che sono stati seguiti dal dottore e che ricordano la sua professionalità e la sua grande umanità. Io dico salito in cielo perché non può che non essere tale, perché lui era un angelo, è sempre stato un angelo in ospedale, una persona di una generosità unica, ha fatto del bene a tutti, oltre che essere un eccellente professionista. Quando si aveva bisogno di qualcosa si ricorreva a Carlo. Carlo, adesso proteggici e guardaci dall'assù e soprattutto guarda la tua famiglia e Donatella. Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutta Italia come sentimento di vicinanza alla moglie, alla sorella, ai quattro figli e ai cinque nipoti costretti a piangere in solitudine. I colleghi lo ricordano come un professionista impeccabile, un uomo solare con la battuta sempre pronta e la parola giusta in ogni situazione. Un uomo che si è impegnato attivamente anche nel mondo dell'associazionismo. Da inizio emergenza, stando agli ultimi dati diffusi, sono almeno 80 i camici bianchi morti a causa del Covid-19. Gli infermieri deceduti sono invece 25 e 5.500 i contagiati.